E ciao ragazzi, ben ritrovati, io sono sempre Melix Game, guardate un po' cosa abbiamo qui. Nuovo gioco che è Ghostbusters, abbiamo finito da pochissimo Life is Strange, quindi siccome mi è stato segnalato più di una volta per copyright, siccome aveva delle musiche registrate, ho pensato bene di non farvi vedere l'intro di questo gioco, nonostante sia veramente molto carino. Inoltre, prima che mi dimentichi e non vorrei mai, vorrei assolutamente salutare un canale. Cioè, mi è partito il gioco! Non ti credo! Così mi segnalano anche questo! If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird, and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Ecco, avete un po' capito com'è il giochino. Allora, dicevo, vorrei salutare Rod... scusate, Rodamati Channel, che è un canale di un mio amico, fa delle bellissime recensioni, vi lascerò magari il link nella descrizione. Eccoci qua! E andatelo a visitare, perché veramente fa recensioni molto carine. Io ora premerò Invio. Ah, un'altra cosa, volevo salutare un'altra persona. Ciao mamma! Lo so che mi segui! Invio! Andiamo in carriera! Nuova carriera! Occasionale, esperto, professionista. Io direi, occasionale. Ecco qua, un'altra intro. Strani rumori nella notte vi disturbano? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Vi è capitato di vedere spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate ancora. Prendete la cornetta e chiamate i professionisti. Chiamate! Vi è capitato a fantasmi! Siamo pronti a credere in voi! Opportunità di franchising! Fidati! Grossel! Sei dalle parti di... Alla orientale? Sì! Alla nuova mostra su Goddard! Sì, perché? Qualcosa ti sta venendo incontro! Aspetta! Ho sentito qualcosa. Vado a dare un'occhiata. Vuoi sapere una cosa inquietante? Leggevo di quello Shandor. Il tizio che ha donato la roba su Goddard. Era un fanatico dell'occulto. Sei soprannaturale. Un tipo strano. Stop! Perché non ne parliamo in un altro momento? Qualunque altro momento. Sarà bene. Un crimpio. Clay, non può stare qui! Ferma! Volevo saltare la sigla. Grossbusters! Per fortuna è durata poco. Mi fanno chiudere il canale. La sua infestazione è dovuta a un'apparizione, un poltergeist, un fantasma, una furia, un succube, un demone, uno spettro, un'anima in tena. Voglia che c'è questa di lavorare. Cosa? No. Se vuole evocare un parente morto per chiedergli la combinazione della cassaforte dovrà rivolgersi a qualcun altro. Sì, beh, altrettanto a lei. Allora... Minchia, c'è le tette fuori. Devo dire che i volumi sono assai alti di questo gioco. Una piccola pecca che ha questo gioco è il caricamento, ma dura brevissimo. Proprio dura poco, Piero. Che duri poco? No. Ogni tanto c'è questo caricamento, ovviamente, per i salvataggi. Ogni qualvolta si cambi scena e si faccia qualcosa di importante, logicamente c'è il salvataggio. Ma cominciamo... affezionarmi troppo. Sai come non si sa mai. Ti ricordi cosa è successo al ragazzo di prima? Ho paura. Messa a punto completata. Sentirai un caricolio. Bene. Abbiamo preparato un rigoroso addestramento per insegnarti le principali funzioni del tuo equipaggiamento. Ci vuole un po' per padroneggiare le abilità richieste, ma ne vale decisamente la pena. Sì, cominciamo bene. Siamo stati noi? No, non credo. Ray? Sarà stato un impulso di energia PSI. Considerevole. Una convulsione necromantica incanalata e centralizzata di settimo livello o più. Sì, verifichiamo i parametri del campo elettromagnetico. Sì. Boleno, lui! Temo di conoscere già la risposta, ma ve lo chiederò comunque. Questa roba di settimo livello è una cosa brutta o molto brutta? Su una scala da 1 a 10 direi che... Fammi indovinare, è un 7. Diciamo che ci darà un bel da fare. E non nel senso buono del termine. Allora, segui Egon Ray. Attenti, Slimer è scappato di nuovo. E interagisci. No, aspetta, torna qui. Scusa, ho già sbagliato. Dove devo andare? Ho sempre sognato di fare questa cosa. Voglio scendere. Cosa? Sono scesa. Andiamo. C'è la signorina. Sì, sono pronta. Andiamo dove dobbiamo andare. Eccolo lì. Per qualche strano motivo è attratto dalla griglia di contenimento. Da quando hai aggiunto il visore all'unità ne è affascinato. Ok, piano, raccadetto. Ti spiegherò ogni cosa. Usa il flusso protonico per attirare la sua attenzione. Un'unità di contenimento. Stai disintegrando uno strumento di eccezionale attività. Ma me l'hai detto te? Ops, ne hai fatto uscire uno. È colpa mia. Oggi pomeriggio ho messo a punto la guarnizione interspaziale. Me l'ha detto lui, ragazzi. E ora che fanno? Questo funzionerà benissimo. Visto che hai già indossato lo zaino, è il momento giusto per allenarsi. Con le giuste precauzioni slimerai inopo. Ah, più o meno. Il suo amichetto, però... Ok, allora andiamo a prenderlo. Sì, andiamo. Non temere per l'unità di contenimento. Quando usi il flusso protonico per la prima volta è facile entusiasmarsi. Eagle l'aggiusterà in un attimo. Non aver paura per me. Io so come affrontare il tuo... Prima che la situazione ci sfugga di mano, familiarizza con lo zaino protonico. Quando sarai là fuori, sarai il tuo migliore amico. Le informazioni che ti servono sono visualizzate sullo zaino. Come cazzo lo vedo che è dietro lo zaino? Se la sezione verde della barra è piena, hai energia per sopportare molti danni e rimanere in piedi. Questa barra indica la temperatura. Se arriva al massimo, fai raffreddare lo zaino per evitare che va bene. Sono in piscina, ho capito. In genere la cattura di un fantasma è un'operazione lineare. Ci sono tre fasi. Indebolimento, cattura e intrappolamento. Primo, bombarda il fantasma per esaurirne l'energia. Ok. Primi, plus, eh? Ma devo, perché devo uccidere questa creatura verde carina? Sei un ottimo tiratore. Vedi quello strato sul fantasma? Indica l'accumulo di energia psico-kinetica. Man mano che dispergi l'energia si ha più voluto. Qua. Raino quasi in zona rossa, raffreddalo. Sì, raffreddato. Poi. Perché dobbiamo farli? Ma dai! Che meno! Abbiamo perso Slimer. Abbiamo perso Slimer. Eccolo! Dov'è? E io che pensavo che Slimer fosse di tutto. Molto bene, hai capito tutto. Seconda fase, la cattura. Con questo controllo emetti manualmente un flusso di cattura o di traccinamento. Lo zaino rileva quando un fantasma è abbastanza debole e seleziona automaticamente il flusso di cattura. Va da tempo e lancia un flusso di cattura su quella polona. Eh? Fantastico, ce l'hai fatta! Appena il fantasma è nel flusso di cattura. Oh! Dov'è il flusso di cattura? Per accelerare i tempi di caricamento dell'indicatore. Riccina il fantasma catturato da una parte e dall'altra. Vai così, guarda il fantasma. Quando lo vedi scattare in una direzione, tira subito il flusso in direzione opposta. Provaci. Sto provando. Sto provando. A queste porte. Bravo! Così! Bene! Fantastico! Ce l'hai fatta! Grazie. Un paio di scaraventamenti stenderanno quasi tutte le entità. Scaraventalo! Terza fase. Va! Giochi pezzante, ragazzi. Via! F per lanciare una trappola. Lancia la trappola! Va, fai! Vedi il segnale? Non gli piace affatto, devi comprenderlo a restare nel tono di cattura. Dai lì! Che! E giù! Grande! Sono un archieppe, per caso. Ah, ricorda di recuperare la trappola. Sì. Recuperò con il... Li hai presi? Ora che si fa? Ah, siamo a metà lavoro. Slimer è scappato, ma il nostro cadetto ha messo nel sacco il primo. Un cliente davvero tolto. Ah, sta molto attento a non incrociare i flussi. Ricordati, mai incrociare i flussi. Mai. Tassativamente. Assolutamente. Ti assicuro che fa parecchio male. Va bene. Seguirò i suoi consigli, grazie. Ehi, come che tutta la roba nuova finisce a pivello? È il nostro nuovo addetto all'equipaggiamento. Pivello sono io. E ha pure una qualifica altisonante. Significa che deve portarsi in giro pericolosissime apparecchiature non collaudate che lo spedirebbero nel New Jersey se esplodessero. Oh, lui è il testone che porta in giro quei pericolosissimi prototipi che ci spedirebbero nel New Jersey se esplodessero. Grazie. Tieniti pure il titolo, ragazzo. Te lo sei guadagnato. Ehi, fulmine di guerra. Dobbiamo andare. E vabbè. Andiamo. Dove andiamo, Ray? Al Sedgwick Hotel. È lì che quell'aborto di Tubero andrà. Giusto. Dove si è manifestato la prima volta? Beh, lì il buffet è ottimo. È proprio ottimo. Non appena Winston torna dal teatro, digli che lo aspettiamo per cena al nostro tavolo al Sedgwick. Ehi tu, tocca a te, bello. Stanotte ti addestrerai sul campo. Cerca di non distruggere tutta quanta Manhattan. A quello pensiamo noi. Ma va piano che non ci arriviamo così. Sani. E' caricamento. Com'è? Com'è finora questo gioco? Io penso che ci morirà sopra. Voglio catturare tutti i fantasmi nel mondo. In questo momento mia mamma sta ridendo come una cogliona. Lo so. Attendiamo questo caricamento in corso. Questo bel fantasmino centrale. Così. E siamo arrivati al hotel. Ballo. Very good. Buonasera. Quel disgustoso bioccolo verde sta di nuovo facendo a pezzi il dodicesimo piano. Esigo un rimborso immediato. Signore, se legge le clausole sulla nostra fattura... Fatture. Giusto, fatture. Vedrà che la garanzia sulle reinfestazioni è scaduta un po' di tempo fa. Diccelo. Doveva accettare l'estensione dell'assistenza. Rilevo degli interessanti picchi di energia psicocinetica. Pare che i fenomeni non siano limitati al dodicesimo piano. Vorrei esplorare meglio l'edificio. Bene, scopri tutto il possibile. Quel mostriciattolo verde non ci darà troppi problemi. Va bene. Oh, salve, signorina. È al sicuro adesso. Sono arrivati gli acchiappafantasmi. Smamma, buffone. Non pensarci neanche. Quell'approccio non funziona quasi mai con me. Più tardi ti spiego perché. Figaiolo. Della malora. Ok, Yasso, tieniti pronto. Sono prontissima. Se ne occupa lei. È un onore, dottor Benkman. Nel nuovo contratto con la città, ci siamo impegnati a spegnere gli zaini nelle aree affollate. E in quelle ristrette. Riduce i rischi per la città e soffispa l'ordine restrittivo richiesto dalla cameriera. Che rassa di mondo. Spari un flusso di particelle a elevata carica a qualcuno e quello ti fa causa. È lui. Dove sono io? Io non ci sono. Ah, qua. Fantastico. Ci beccheremo un'altra denuncia. Che facciamo, ragazzi? Andiamo, Ray. Sono io che mi ritrovo la faccia tutta inzaccherata ogni volta che il nostro piccolo amico verde scappa. Non mi conosce neanche e già mi odia. Occhio. Contatto. Eccolo lì. Ok, toccano. Che sangosa. Prima lo stanchiamo e poi lo catturiamo. A questo serve il raggio protone. Scusa, Ray. Salute. E' scappato. Ah, questo film l'ho già visto. So come va a finire. Ma voi due divertitevi, eh? Io sorveglierò gli ascensori e scorcherò il signore che vuole il loro spazio. Sì, ok. E questo segnale sembra proprio la sfuggente entità alla quale stai dando la caccia. Il misuratore lampeggia ed emette un ronzio quando rileva un segnale. L'ecto visore è collegato al rilevatore di energia. Potrai vedere fenomeni altrimenti invisibili quando ne rilevi una traccia. Tracce di fantasmi, aluni di oggetti e altri eventi simili. Quando la barra centrale è al massimo stai andando nella direzione giusta. Quando è a zero sei su una pista morta. Allinea l'obiettivo col cerchio piccolo per una migliore scansione. Ok, ora ci sei. Fai una scansione. Ben fatto! Vediamo che abbiamo trovato dell'ectoplasma. Quanto sono felice. Va bene. Ora che abbiamo scansione. Il rosso indica che c'è un fantasma nascosto. Il verde, un'anomalia paranormale nell'area. Il blu, un campione attivo. Ho capito. Come faccio a togliere ora questa cosa? Vediamo innanzitutto che ci dà i comandi e Equipaggiamento Ah, noi abbiamo catturato il fantasma dell'accidia. Che culo! Bene. Oh, oh, oh! Si alzano le alette. Pochino. Ok. Hai zitto che mi metti paura. Pochino. Uoco. Come fa? Questa porta? Attento. Fare una buona scansione è come prendere una buona istantanea. Se ti imbatti in un'entità furiosa, tieni premuto il pulsante di scansione. Il segnale di energia del fantasma verrà analizzato e confrontato con il database dell'ecto guida del togono. Attento. Oh, è scappato. Oh, ma che botta che ho preso. Oh, è passato da qui di sicuro. Eh sì. Lo sento. Un campione attivo è qualcosa da raccogliere, come un manufatto maledetto. C'è un bonus per ogni cosa sottoposta a scansione e raccolta. Poi lo affidiamo al reparto ricerca e sviluppo. Con i fondi extra facciamo esperimenti per nuovi equipaggiamenti e tecnologie offensive. Che potrai indossare personalmente sulla tua schiena e testarle. Ricorda che puoi rivedere quando vuoi tecniche, tutorial ed equipaggiamenti nella guida pratica della chiapa fantasmi, accedendovi dal misuratore di energia. Capisco. Ho capito tutto. Ray, non mi sento bene! Dove? Rispondi, Peter. Stai bene? Oh, uomo a terra. Abbiamo un uomo a terra. Via, via, via! Oh, merda. Andiamo, muoviti! Vediamo di accelerare un po', eh! Scatta, cadetto! Vai! Ho sbagliato questo! Aspettami! Dov'è Ray? L'hanno ricoperto di merda! Di nuovo! Vieni qui e dagli una mano, ok? Ma com'è potuto succedere? Stavo sorvegliando gli ascensori! Quel calzone mutante mi ha preso alle spalle! Mi ha rovinato un'altra volta! Quando uno di noi viene ferito, gli altri vanno a dargli una mano. Il nostro è un lavoro di squadra. Ah no, amico mio. Quello era prima che mi inzaccherasse. Adesso la parola d'ordine è vendetta. Dovete venire immediatamente. Il nostro esperimento scientifico residente sta distruggendo la lobby e non è solo. Altri fantasmi? Ma avevamo disinfestato questo hotel cinque anni fa. Ogni giorno muore qualcuno. Chiamala ascensore, ragazzo. Ascensore! Quale? Questa? Non ho intenzione di fare le scale. Ah, niente ginnastica per me oggi. Che piattola che sei! Che amato, eh! Fai schifo! Sei tutto sporco e zuzzo. Ok, Slimer. Ti sei già divertito. L'ascensore è up limits. Egon, rispondi. Potremmo essere bloccati in ascensore. Ci serve aiuto? Bloccati, eh? Beh, vediamo. Siamo bloccati, siamo bloccati, siamo bloccati. Ray, ragazzi, che ne dite? Siamo ufficialmente bloccati per alzata di mano. Sta arrivando. Prendilo, Ray! Serve aiuto. Ma vaffanculo, sei nu. Mi deludi sempre, Ray. Lo sai? Uh, eccolo. Quindi lo catturiamo? Faccio salve. E' un fattorino d'albergo di New York. Basta darvi una mancia, no? Basta darvi una mancia, no? Tu in cinto Ho sentito qui una pizzo Vai lì Questa va Vabbè Tu in cima Vieni duro Mi hai colpito Sì L'onda d'urto di energia psicocinetica convulsiva ha scatenato il caos, guarda com'è ridotta la lobby Eh sì Possiamo chiamare Winston e dirgli che la sua serata libera è finita? In effetti abbiamo fatto un po' di casino Ce ne sono altri Ma spostati Non sopra di te Eh ho visto Dimmelo prima la prossima volta Si sono separati Seguimi Ray Gli altri stanno tornando al pieno di sopra Venkman Voi due attirate in trappola Slimer il più in fretta possibile A giudicare da questi picchi non sarà un semplice intervento di disinfestazione Diventa proprio prepotente Sì Sì Ragazzi Chiudiamo qui Questa puntata che Teoricamente doveva essere solamente un intro per farvi vedere com'è un pochino il gioco Com'è l'avete visto E quindi passeremo alla fase più cliente nella prossima puntata Spero che abbiate gradito questa primissima puntata di Ghostbusters Like al video Iscrizione al canale Ciao 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 Ciao